E' una specie di lumaca all'uragano Irma che dopo aver sversato la Florida ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e almeno 5 morti, stando all'ultimo bilancio. Lo Stato, già colpito da Harvey, si era preparato. Centinaia rifugi approntati in chiese, palestre, palazzetti e ospedali che hanno limitato e di molto il numero di vittime. Uno dei timori più grandi della popolazione, oltre alla violenza delle intemperie, era il pericolo di saccheggi nelle case rimaste sguarnite. Un dramma nel dramma che non è stato invece risparmiato agli abitanti delle Antille olandesi. Lì le forze dell'ordine hanno lasciato mano libera a bande criminali che hanno terrorizzato la popolazione. Il centro uragane nazionale statunitense ha intanto declassato Irma a categoria 1, con venti fino a un massimo di 136 km l'ora. Pericolosi ma non mortali, oltre 3 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, ma spesso è una misura che le stesse autorità prendono per evitare incidenti e la popolazione è avvertita di affidarsi a generatori. Per ora si pensa che i danni ammontino ad almeno un'ottantina di miliardi di dollari.